Vi parliamo adesso di questo casotto che sta succedendo fra Mara Maionchi e Raffaella Mennoia. Sappiamo benissimo ovviamente di chi stiamo parlando. Mara Maionchi lascia la scuola di amici di Maria De Filippi. Mara Maionchi produttrice discografica di successo non è conduttrice di molti programmi come X-Factor, Amici etc. E proprio qui sta il punto della situazione. Mara Maionchi ha abbandonato recentemente la trasmisisone Amici di Maria De Filippi ed in particolare Mediaset per trasferirsi a X-Factor. A quanto pare Raffaella Mennoia non ha mandato giù la notizia ma proprio per nulla. E avrebbe sentenziato Amara Maionchi di spararsi per questo suo trasferimento. A questo punto Davide Maggio ha sentito la conduttrice e le ha chiesto se era a conoscenza di queste dicairazioni di Raffaella Mennoia e dice Sono francamente accuse che non merito e ci sono rimasta molto male. La mia avventura era finita. Amici l'ho fatto con piacere perché mi incuriosiva Maria De Filippi, è una forte. Quando poi ho visto che è cambiata la formula, mi è interessato sempre meno. Per dirla tutta Mara conclude la dichiarazione con un'offessa che non riportiamo. Ma il bello viene adesso infatti Raffaella Mennoia scrive sulla sua pagina fans di non avere altri profili oltre che quello insomma in pratica ha smentito il profilo Facebook dal quale sono partite le offese nei confronti di Mara Maionchi. Grazie a tutti.